Una serata particolare al ristorante Lo Spigo, sulla collina tra Montelupo Fiorentino e Montesperto, località Botinaccio mi pare, quindi questa è la località dove si trova il ristorante Lo Spigo, Francesco Magazzini è il titolare, assieme al padre anche che ormai conosciamo da tanti anni, Tiziano. Una serata particolare per festeggiare il Velo Club Scuola Cirismo di Empoli per la sua splendida stagione con ben sei titoli regionali, quattro su pista, quello a cronometro, quello in linea, poi il titolo provinciale e tre convocazioni con la rappresentativa della Toscana e quindi una serie insomma davvero di grandi successi e ricordiamo anche la medaglia di bronzo al campionato italiano di Dalminen, provincia di Bergamo, con Fabio Del Medico. L'altro autore e vincitore del titolo toscano è Gerolomo Emanuele Micheli. Siamo con Francesco Magazzini che ha il nome Ristorante Lo Spigo sulle maglie del Velo Club Scuola Cirismo di Empoli. Direi un'entrata nel ciclismo davvero migliore, non si poteva essere. Davvero, siamo molto contenti di far parte di questa squadra ciclistica che comunque sia una delle più grosse in Toscana e quindi davvero un'annata con molti, tanti trofei. Siamo davvero contenti di far parte, come ho detto, di questa squadra e quindi auguriamo a tutti i nostri corridori di finire la stagione il meglio possibile. Guarda, il Mazzoni, il nostro presidente, sta facendo un grandissimo lavoro a livello di team e sono davvero orgoglioso di farne parte, davvero. E stasera è una splendida serata, siamo davvero contenti. Tra l'altro, Francesco, siete impegnati anche con il team Malmantile, la Seggiola, sponsorizzate anche una sciallangia nel ricordo di Mauro Mancini, ma con questa squadra giovanile che ha ben 70 giovani. Quindi, al di là dell'aspetto sportivo, c'è anche un discorso di educazione, un discorso sociale. Certo, noi diciamo come ristorante cerchiamo di essere presenti nel territorio. mio padre mi ha assegnato questa grande passione del ciclismo e quindi siamo presenti soprattutto in questo settore. Sono davvero contento di farne parte, sia come team Malmantile, ma anche come Velo Club. Davvero, sono molto orgoglioso. Niente, questa è una splendida serata. Spero che faccia bene ai nostri corridori e faccia bene, diciamo, alla comunità. E naturalmente è di proseguire su questa strada anche per il futuro. Certo, certo. Noi, come ho già parlato il Presidente, ci siamo e ci saremo anche nel futuro. Quindi, sono davvero contento. Davvero. Non poteva festeggiare del migliore dei modi il ventennale dalla fondazione della società avvenuta nel 2002, il Velo Club a scuola ciclismo di Empoli. Perché questa stagione splendida, che tra l'altro non è ancora finita, ha regalato tanti titoli. Alberto Mazzoni è il Presidente, ma più che il Presidente è il papà. Un po' di tutti coloro che gravitano attorno al Velo Club. Hai fatto davvero una grande famiglia? E quando si dice 70 atleti circa, dai giovanissimi agli unioni, ora si dice tutto. Effettivamente, pochi mesi fa si è fatto qui l'inizio. E' stato veramente un inizio formidabile. Perché presentare tutti i ragazzi è stato importante, è stato bellissimo. Però il discorso era ottenere poi i risultati. A correre ci si va volentieri, ci si va a tutti. Però poi essere riempensati di tutto quello che è il sacrificio, l'impegno. Seguire da vicino una volta una, una volta un'altra, tutte e quattro le categorie, non è una cosa semplice. Però con la buona volontà, sinceramente, siamo arrivati a oggi. e si comincia a dire veramente ci siamo dati da fare per qualcosa. E questo qualcosa è stato che i ragazzi hanno dato il meglio di se stesso e veramente siamo entusiasti su tutti i livelli, diciamo. Perché gli sponsor sono contenti, i genitori sono contenti perché hanno ragazzi che gli fanno un buon lavoro. E nulla. Proseguiamo per questo fine di stagione e poi vediamo che succede. Alberto, tra l'altro, con la tua squadra, con le varie formazioni, sei stato protagonista, non soltanto per quanto riguarda l'attività su strada, perché sono arrivati il titolo Toscana a cronometro, su pista un vero e proprio autentico trionfo, compresa la medaglia di bronzo ai campionamentali. Insomma, voglio dire, la multidisciplina che tanto piace ai dirigenti della Federciclismo l'avete onorata fino in fondo. Questo era il programma fin dall'inizio. Io mi piace, mi piace la pista in se stesso. Quando trovare poi i ragazzi e quando gli si domanda si può iniziare ad andare in pista e ti dicono si viene volentieri, questa è la meglio soddisfazione che si può trovare. Perché non è, come ho detto prima, frequentare un ambiente, perché sì, la federazione dice di fare a multidisciplina, ma lo diano sulla carta. Poi la frequenza è minima degli altri corridori, diciamo, perché i numeri sono sempre stati bassissimi. Mentre noi si è messo a disposizione, prima di tutto, un pulmino. Gazevo, perché là in quel piazzale, diciamo, della pista a Firenze, alle Gascine, c'è un sole che specialmente quest'anno faceva impressione, veramente. Allora, ci siamo organizzati. Si è fatto quello che i ragazzi avevano a disposizione per poter fare e siamo stati ripagati. Sinceramente dico il massimo di quello che si poteva ottenere. Ultima domanda. Guardare in avanti, guardare il futuro ed ecco il nome nuovo. Giovanni Visconti, preparatore atletico delle squadre. Questo è stato, diciamo, uno spunto mio personale, diciamo. Io ho sempre ambito a un qualcosa di nuovo, perché il cirismo, sì, sta facendo grandi cose, però io sono convintissimo ancora, diciamo, che per fare qualcosa bisogna sempre rinnovarsi. E per rinnovarsi, io vengo dalla vecchia guardia, ormai sono passati gli anni, bisogna accostarsi a qualcuno che veramente ha le capacità di poter esprimersi nella modernità. Si guarda, si mette a un bambino di tre anni, si mette un telefonino in mano, dopo un pochino lo spippola, sembra ci sia nato il telefono in mano. E così è venuta quest'idea di dire, Giovanni ha cessato l'attività. Ho detto io, qualcosa deve fare, perché un po' le cessare così di punto in bianco, chiamarlo a proporgli di seguire una squadra che, sinceramente, i numeri sono arti, però c'era anche i risultati, chiedere un costa nulla. E' stato un incontrarsi, viceversa, a testa a testa, si è parlato di quello che era il nostro progetto, esordienti, allievi, poi di seguito si è incluso anche gli uniones, e si è detto, vediamo, con questa innovazione si parte lenti, piano piano, però poi si arriverà anche a dove dire, nei prossimi anni siamo già pronti. Se diciamo, Giovanni Visconti non è sicuramente un nome nuovo nell'ambiente del ciclismo, un volto conosciutissimo, un gran bel campione di questo nostro sport, che ha deciso di lasciare la bicicletta per altre strade, ma restando sempre nell'ambiente del ciclismo. Da qui è questa venuta alla Veloclub Scuola Ciclismo di Empoli, nel ruolo di preparatore atletico. Sì, hai detto bene, per me è motivo d'orgoglio, sinceramente, aver ricevuto la chiamata di Alberto Mazzoni, del Veloclub Empoli, che mi mostrano questa fiducia che hanno nei miei confronti, nonostante comunque, sì, è vero, sono stato professionista tanti anni, però è una cosa nuova anche per me. Sono convinto di poter far bene, credo di avere un'esperienza tale, anche perché ho smesso ieri di andare in bici, e credo di poter essere in grado, e soprattutto mi piace tanto l'idea di poter aiutare i giovani, consigliarli nel modo giusto, rimanendo un po' con la mentalità del ciclismo passato, ma con le nuove metodologie, che adesso vanno per forza seguite, perché comunque il mondo del ciclismo va avanti, come va avanti tutto il resto, è giusto anche adeguarsi ai tempi. Giovanni, ma il tuo ruolo in seno ora alla società di Empoli è quello di preparatore atletico, oppure anche nei tuoi progetti futuri è quello di salire anche in ammiraglia, e di fare il vero e proprio direttore sportivo di qualche formazione? Sinceramente sono partito con l'idea di aiutarli a livello atletico, di preparazione, i ragazzi, però man mano che sto con loro, più li frequento e più mi valera in testa quell'idea, perché è bello comunque pensare di poter essere d'aiuto, anche da una macchina, ho vissuto il ciclismo in tutti i modi, sin da ragazzino, i sacrifici che ho fatto sono stati tantissimi, e sinceramente quella è un'idea che è lì, buona buona in questo momento, però c'è. Qualche altra idea? Sempre di Giovanni Visconti, sempre restando all'ambiente del ciclismo? Ma comunque in questo momento collaboro già con il gruppo Zecchetto, che comprende diversi marchi importanti, molto conosciuti nel ciclismo, ho partecipato anche a qualche pedalata organizzata, ne sto organizzando qualcuna io, però diciamo che la cosa principale, quello che occupa più tempo in questo momento, è proprio quella di seguire i ragazzi giovani, di stargli dietro, non semplicemente dando dei lavori da fare in bici, una preparazione atletica, però proprio standoci insieme, parlandoci, provando a ritrovare quel dialogo che c'era una volta. Negli ultimi anni purtroppo mi sono trovato a vivere situazioni di gara, dove ormai si parla solamente per telefono, per mail, per whatsapp, e io vorrei far capire ai giovani che ci vuole il dialogo, ci vuole parlare, ma veramente faccia a faccia, non stare sempre fissi al telefono, e nonostante questo, quindi ricordandosi bene di com'era il passato, il ciclismo nel passato, però lavorare anche con i metodi nuovi. Cioè in questa società non manca il lavoro, con le tante decine di tesserate che hanno? Sì, io davvero non conoscevo benissimo questa realtà, ma mi sto rendendo conto che è una grande realtà, che merita di andare avanti e di migliorarsi, e se vogliono fare un passo del genere, secondo me è da fargli un applauso, perché comunque non è da tutti pensare di evolversi, quando hai una mentalità su un tipo di ciclismo, e purtroppo o per fortuna non si sa, il ciclismo adesso sta cambiando, ti devi adeguare, è una società che fa questo con tutti questi atleti, che va avanti da anni con l'aiuto degli sponsor, è chiaro, non è facile, quindi va fatto davvero dei grandi complimenti. Sulle maglie tra gli sponsor, la Green House, ormai mi pare da un po' di tempo a questa parte, avete trovato una società che vi sta dando davvero grandi soddisfazioni. Sì, siamo contenti della stagione, siamo contenti più che altro del modus operandi di Alberto, dell'approccio per i ragazzi al ciclismo più che altro, e poi chiaramente i risultati, le maglie, danno ancora più soddisfazione sia ai ragazzi che ai miei sponsor. Poi il fatto di avere davvero 70 giovani, aiuta anche le famiglie, i loro genitori, è un discorso davvero che travalica il fatto dello sport, diventa anche educazione. Sì, perché si riesce a dare discipline ai ragazzi, si riesce a metterli insieme, a farli socializzare, a fargli fare un qualcosa che nella vita normale purtroppo con gli smartphone e tutto il resto ad oggi è un po' abbandonato questo modo di vivere, il modo di passare le giornate. E poi è uno sport che avendolo fatto anch'io per un po' di tempo, che c'è anche la passione dietro, il piacere di vedere i ragazzi andare in bicicletta, ma quando eravamo noi giovani. 2022 ormai volge al termine, almeno ciclisticamente parlando, ma la Greenhouse la vedremo anche l'anno prossimo? Certamente, certamente, certamente. Ormai Alberto ci conosciamo da, penso, quasi 25 anni, 26 anni, quindi obbligatoriamente anche il prossimo anno saremo sulla maglia. Siamo con il rappresentante della Tessuti, Paoletti, nuovo sponsor di questa formazione. A cosa è dovuto l'ingresso, Paoletti, nel ciclismo in Sena a questa società? L'ingresso è arrivato, c'è stata fatta una presentazione da degli amici, ci hanno fatto vedere un po' il progetto, ci è piaciuto e abbiamo cercato di contribuire anche noi in questa avventura di questi ragazzi che comunque si impegnano, perché alla fine è uno sport che dà disciplina, sacrificio, sono quelle attività sportive che fanno bene ai giovani e alle squadre, bisogna che abbiano anche loro un po' di supporto a riguardo. E la sua presenza qui stasera al Ristorante Lo Spico gli ha consentito anche di ammirare davvero questa autentica armata, chiamiamola così, di giovani di questa società. Esatto, quindi stasera per me è la prima volta, quindi sono molto contento perché comunque ho potuto vedere realmente anche proprio lo spirito con questi ragazzi si relazionano e anche proprio la squadra, che comunque si vede veramente c'è proprio un affiatamento da parte di tutti, quindi è una bella esperienza. È un progetto di anno in anno o avete già parlato di due, tre anni, un progetto più a lunga scadenza? Allora, non abbiamo parlato di progetto a lunga scadenza, però sicuramente da parte nostra ci sarà il supporto anche nel futuro, perché comunque, ripeto, è una cosa che ci piace, è un momento che comunque coinvolge un insieme di persone, lega delle persone, e quindi noi si cerca di dare il nostro supporto a questi giovani che ne hanno bisogno, insomma, ecco, anche per levarli da, come dire, dalla normalità del, purtroppo, dei telefonini, quindi è bene che si impegnino in qualcosa. Altro sponso importante e ormai familiare per questa società, la RF, qui siamo con l'amico Forconi, che tra l'altro ha gareggiato anche, non molti anni fa, non diciamo quanti, perché è ancora giovane. Alberto Mazzoni, una gran bella realtà questa società Forconi. Certo, alla fine è sempre un piacere vedere, dar seguito, insomma, quello che uno ha creato poi in una storia, se penso, io stesso sono stato messo in vicinità da Alberto nel lontano 99, e alla fine si vede ancora una struttura solida e che fa comunque continuare a sognare i ragazzi, come si può vedere già da una serata mequista e da una stagione mequista di quest'anno. E poi si parte da giovanissimi, se arriva agli unior e se davvero si comprende tutto l'arco del settore chiamato giovanile. È un punto di forza, anche se poi gli impegni e le energie da dedicarci sono sempre maggiori per l'organizzazione, insomma, per un mondo del cismo come oggi è un pochino più in difficoltà, però è anche un sintomo di continuità anche per i ragazzi che, diciamo, possono vedere qual è la loro dimensione e vedere poi se può diventare una professione, insomma, anche nel lungo periodo. Forconi, ma oggi continui a pedalare in bicicletta? Io quando riesco a ritagliarmi del tempo, sì, continuo ad avere il piacere, purtroppo nelle condizioni atletiche né alla fine quelle che possono essere le condizioni fisiche. Non sono le stesse, però il piacere delle pedalate, insomma, in compagnia ce l'ho anche oggi, sì. Invece Riccardo Forconi che fa oggi? Lui si è dedicato all'azienda agricola, quindi nel settore poi vitivinicolo e quindi alla fine ha portato avanti questa che poi è una cosa di famiglia, insomma, una tradizione, insomma, di tanti anni e quindi, diciamo, sia un pochino momentaneamente allontanato dalla bici. Poi, purtroppo il cilismo è una passione che non svanisce mai, secondo me, quindi chissà. E invece il tuo impiego, il tuo ruolo nella vita di tutti i giorni, quale è attualmente? Io attualmente ora ho la parte consulenziale, io ho proseguito poi, dal momento è finito poi il percorso di cilistio, il mio percorso di studi, quindi, diciamo, faccio attività di consulenza e poi, per un discorso poi dell'area di fantincendio, tutta l'attività di progettazione antincendio che poi dà seguito a quella, anche questa è un'impresa familiare che quindi, diciamo, insieme alla bici è una cosa che poi ho coltivato poi negli anni. E' stata la pioggia ad accogliere la carovana della 61esima Vittorio Veneto Consiglio, classica con arrivo in salita riservata alla categoria Juniores, messa splendidamente in cantiere anche quest'anno dalla SD Frare Denardi del presidentissimo Maurizio Montini. Dicevamo alcune gocce di pioggia che vanno a ravvivare il raduno di partenza per i 104 atleti che si schierano sulla linea della via, ma nel momento in cui inizia il tratto di trasferimento verso il chilometro zero, già i primi raggi del sole arrivano per migliorare quantomeno le condizioni meteorologiche che attendono gli atleti in gara. Una manifestazione, lo abbiamo detto in apertura, che ha una lunga storia che ha sempre premiato atleti di grandissimo valore. Intanto ad attendere la carovana alla chilometro zero insieme al presidente Maurizio Montini anche il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Sarà lui ad abbassare la bandiera a scacchi della via per una manifestazione che misura ben 102 chilometri. In programma infatti ci sono le tornate iniziali disegnate sul circuito ondulato di Colle Umberto cui seguirà la scalata conclusiva di una decina di chilometri per giungere quota 1181 metri in località La Crosetta alla confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia per incoronare il successore del piemontese Lorenzo Rinaldi che lo scorso anno con la maglia della Vigor Cycling Team andò ad aggiudicarsi questo traguardo davanti ad Alessandro Pinarello della Borgomolino Rinascita Armelle e a Domenico Cirlincione della Vigor. Quindi una manifestazione molto ambita soprattutto dai migliori green pair del panorama nazionale e intanto vedete che è proprio il sole a caratterizzare queste prime fasi di corsa con il gruppo che sfila compatto sui saliscendi di Colle Umberto ad attendere gli atleti al passaggio sul Gran Premio della Montagna anche Ennio Benedett intento a stilare la classifica dei traguardi volanti e dei Gran Premi della Montagna disseminati lungo il percorso per andare a ravvivare una giornata che comunque si corre in attesa di quella che è la salita che caratterizza da sempre questa manifestazione si giunge in vetta al Cansiglio una montagna che significa molto per il mondo delle due ruote e che ha sempre regalato grande spettacolo intanto con le nostre immagini ci siamo spostati al chilometro 30 quando a prendere il largo sono sei atleti si tratta di Thomas Chianello della USB a Sono di Lorenzo Unfer del team Tiepolo Udine di Francesco Francia del team Paletti Giuseppe Cornacchia della Brunero Alessandro Pessotto della Fontana Fredda e con loro anche Mario Negroponte della Rotogal Guadense questi sei corridori caratterizzano tutta la parte iniziale di corsa e riescono a guadagnare un vantaggio massimo di due minuti sul gruppo poi il plotone si avvicina giunge ad appena 50 secondi dalla testa della corsa ed è a quel punto che all'inseguimento dei sei battistrada che vediamo impegnati su un nuovo passaggio lungo la salita di Colle Umberto si sganciano dal gruppo Pietro Biondani della Autozai Petrucci Contri e Matteo Rapporti della Borgo Molino Vigna Fiorita questi due corridori nell'avvolgere di una tornata si avvicineranno ai battistrada e riusciranno a raggiungerli andando così a comporre un drappello di otto atleti al comando della Vittorio Veneto Cansiglio Targata 2022 al loro inseguimento intanto il plotone vedete si spezzetta in più tronconi per poi riprendersi e ricompattarsi una volta tornati in pianura diciamo che questa fase iniziale di corsa serve ai più attesi della vigilia soprattutto per andare a scaldare la gamba in vista del gran finale sarà un finale decisamente impegnativo quello che condurrà in vetta al Cansiglio dicevamo poco fa appunto una delle salite storiche che hanno scritto pagine in portanti del mondo del ciclismo e che anche per la categoria Juniores significano molto infatti è proprio in questo arco di età che gli atleti comprendono la propria vocazione verso la volata piuttosto che la pianura o la salita e quindi la Vittorio Veneto Cansiglio darà la possibilità a coloro che hanno spiccate doti di scalatore di mettersi in luce intanto vedete il rientro di Matteo Rapporti di Pietro Biondani preannunciato sulla testa della corsa abbiamo quindi otto corridori al comando della Vittorio Veneto Cansiglio quando siamo a 40 km dal traguardo il vantaggio di questi otto atleti torna a salire sono due minuti quelli che separano i fuggitivi dal gruppo inseguitore un ottimo vantaggio per gli otto attaccanti che proseguono di comune accordo e che fanno pensare anche alla possibilità di scrivere un epilogo diverso da quello che riguarda i più attesi della vigilia infatti a far parte di questo drappello di testa ci sono alcuni atleti decisamente interessanti dotati anche di un ottimo passo in salita e che potrebbero con un vantaggio così cospicuo pensare anche di puntare dritti verso il traguardo nonostante questo il gruppo alle loro spalle prosegue allargato su tutta la sede stradale ed è quindi un gruppo che lascia bandiera bianca disco verde agli otto fuggitivi che transitano al suono della campana con due minuti e quattro secondi di vantaggio tra i più attivi in testa alla corsa ci sono senza dubbio Matteo Rapporti l'ultimo rientrato appunto della Porta Colori della Borgomolino Vigna Fiorita e anche Lorenzo Unfer pronto ad ogni tornata a sprintare per il successo anche nella classifica dei Gran Premi della Montagna con loro da tenere d'occhio Alessandro Pessotto della SC Fontana Fredda società friulana che tra le proprie fila conta anche Alessandro da Ross che in questa seconda parte di stagione ha dimostrato di trovarsi a proprio agio quando la strada sale verso il cielo intanto con le nostre immagini siamo usciti dal circuito iniziale ci stiamo dirigendo verso le pendici della Cansiglio e vedete che in testa alla corsa ad allungare è proprio Lorenzo Unfer del team Tiepolo Udine che guadagna un centinaio di metri sugli ex compagni d'avventura a questo punto a rilanciare l'azione è nuovamente Matteo Rapporti della Borgomolino Vigna Fiorita che con uno scatto ben piazzato si riporta tutto solo sulla battistrada e quindi quando la strada inizia a salire la situazione vede due uomini al comando Lorenzo Unfer e Matteo Rapporti che proseguono di comune accordo con 35 secondi sugli ex compagni d'avventura e 1 minuto e 40 secondi sulle prime avvisaglie del gruppo un plotone trainato dalle maglie della Sandrigo Bike altra formazione che ha al proprio interno uno degli scalatori che si è messo più in luce in questo 2022 parliamo di Andrea De Marchi vincitore della Sandrigo Monte Corno altra classica con arrivo in salita riservata agli juniors ed è proprio la Sandrigo Bike a dettare il ritmo in salita intanto in testa alla corsa allunga in solitaria Matteo Rapporti il giovane atleta al primo anno della categoria con la casacca della Borgomolino Vigna Fiorita impone il proprio forcing riesce a staccare Lorenzo Unfer e si proietta tutto solo verso il traguardo intanto vedete è arrivata puntuale anche la pioggia a rendere ancora più bello e straordinario questo finale di corsa ancora più incerto con un Matteo Rapporti davvero scatenato davanti a tutti intanto un plotone ancora piuttosto folto quello che si lancia all'inseguimento di Matteo Rapporti l'atleta Vicentino che già nella categoria degli allievi aveva dimostrato di avere delle buone carte in salita e al suo inseguimento a guidare le fila del gruppo via il dorsale numero 80 Mirko Santori della US Monte Corona il Trentino che si è già messo in luce nella 90 Padovana Enego altra corsa con arrivo in salita è lui che va a guidare l'inseguimento a Matteo Rapporti che ha già superato il cartello dei 5 km al traguardo e vedete ormai ha 200 metri di vantaggio sul gruppo su di lui rientra come un falco Mirko Sartori che va a dettare il ritmo e a rilanciare l'azione tenta di resistere sulla ruota di Sartori un generosissimo Matteo Rapporti merita un applauso la sua azione per il coraggio e la spettacolarità ma lì ad appena 20 secondi c'è il resto del gruppo con tutti i migliori scalatori al via vedete un drappello ormai composto da 25-30 unità sono questi i corridori che andranno a giocarsi verosimilmente il successo finale intanto nuovo a lungo di Mirko Sartori che si libera della compagnia di Matteo Rapporti e con un'azione efficace tenta di andarsene tutto solo ma su di lui ritorna lo slovacco Samuel Novak altro portacolori della Borgo Molino Vigna Fiorita formazione davvero scatenata quest'oggi da tenere d'occhio sino alle battute conclusive si franco bolla sulla ruota di Samuel Novak anche Mirko Sartori e quindi poco più indietro anche Luca Paletti l'emiliano della team Paletti che abbiamo già visto protagonista anche nelle gare di ciclocross poco più indietro inseguono Alessandro Borgo e Alessandro D'Aros quindi Matteo Scalco lo vedete ancora con le fasciature riportate dopo la caduta alla Coppa Pietro Linari quando siamo a due chilometri dal traguardo questa la situazione ma in testa la corsa ad imporre un forcing davvero esagerato è Samuel Novak atleta anche lui al primo anno non chiede il cambio a Luca Paletti va su del suo passo Novak alla ricerca del primo successo stagionale vedete un passo decisamente forzato tenta di resistere sulla sua ruota Luca Paletti ma vedete la fatica a segnare il volto dell'atleta in casacca giallo-rossa che tenta in tutti i modi di mantenere la ruota di Novak ma quando siamo già negli ultimi 500 metri arriva la stoccata di Samuel Novak l'atleta in maglia nero-verde se ne va tutto solo mentre Luca Paletti tenta di difendere il proprio secondo posto arrivo in solitaria per Samuel Novak della Borgomolino Vigna Fiorita che si aggiudica così il traguardo della 61esima Vittorio Veneto Cansiglio un bellissimo successo per l'atleta slovacco lo ripetiamo lui che è al primo anno nella categoria seconda piazza per Luca Paletti che giunge con appena 6 secondi di ritardo mentre è volata per il terzo posto vinta da Matteo Scalco della Borgomolino Vigna Fiorita davanti ad Alessandro Darossa della Fontana Fredda Alessandro Borgo della Work Service Speedy Bike quindi Mirko Sartori della US Montecorona seguono Lorenzo Mottes anche lui della Montecorona quindi Alan Flocco Roberto Sesana e Andrea De Marchi Samuel la beautiful victory your first victory in Italy si questa è la mia prima vittoria in Italia conoscevo questa salita perché in settimana ero venuto a provarla con la squadra con Matteo e Marco e per questo abbiamo tentato da subito di attaccare sono riuscito a dare il meglio di me a conquistare una vittoria bellissima in solitaria davvero un bellissimo risultato prossimi obiettivi sicuramente il giro della Lunigiana correrò a Vertova ma poi ad attendermi ci sarà il giro della Lunigiana con la nazionale e i campionati del mondo in Australia Matteo Scalco un terzo posto che oggi vale come una vittoria non solo perché ha vinto Samuel Novak ma anche perché è rientro dopo la caduta sì proprio così in tanto sono contentissimo per Novak è venuto in Italia quest'anno domani devo ancora un po' imparare a correre avevo un po' di inesperienza però oggi ho dimostrato tutte le sue doti Maurizio Montini la Vittorio Veneto Cansiglio ha regalato grande spettacolo anche quest'oggi c'era preoccupazione per la pioggia ma alla fine è spuntato il sole sì sinceramente prima della partenza c'è stato il disastro come pioggia di come tempo diciamo per fortuna si è calmato all'orario della partenza verso le ore 14 e si è potuti partire col sole in pratica da Vittorio Veneto dopo il circuito è stato anche bello diciamo un po' battagliato e alla fine hanno iniziato la salita che è cambiato un po' il tempo ma è nato tutto bene alla fin fine grazie a tutti